Amici e amiche carissime, a tutti quanti voi benvenuti, bentornati e ben ritrovati per una nuova puntata del ciclo di Catechesi, la Madonna degli iscritti di Maria Valtorta che cade oggi nel primo sabato del mese, oltre che il giorno in cui la Chiesa commemora tutti quanti i fedeli defunti, ieri essendo una giornata di festa il primo di novembre, generalmente queste Catechesi vanno in onda il venerdì sera, ho pensato che fosse opportuno rimandarla alla mattina seguente, non deve consentire anche a chi ascolta le dirette di poter con maggiore facilità sintonizzarsi. Bene, oggi ci aspettano altri momenti meravigliosi, stiamo nella sezione del testo che affronta la Madonna nel tempo che la precede, cioè tutti quanti quei passi, soprattutto biblici, che profetizzano, prefigurano la presenza della Madonna sulla terra, che anzitutto vediamo e poi verifichiamo come negli iscritti di Maria Valtorta sono contenuti, la volta scorsa ci siamo ben sintonizzati sul protovangelo, a cui è stata dedicata tutta la puntata precedente, essendo certamente un argomento di eccezionale, insomma, importanza. Quindi abbiamo visto come la profezia se ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno si compie e si è perfettamente compiuta in Maria. Oggi vedremo gli altri, forse tutti, forse qualcuno, vediamo un po' gli altri brani vetro-testamentari che si riferiscono alla Madonna, ossia la profezia di Isaia sulla Vergine Mater dell'Emanuele, Isaia 7,14, sempre la profezia di Isaia sulla radice di Iesse, 11,1, la profezia di Geremia, quel brano oscuro, ecco, una donna chiuderà in sé l'uomo, Geremia 31,21,22, e poi infine la sposa del Cantico dei Cantici, ecco, che che ne pensi qualcuno, ecco, è principalmente riferito prima ancora che il rapporto tra Cristo e la Chiesa, il rapporto tra Cristo e la Madonna, che rappresentano proprio l'archetico primordiale, ecco perché non dobbiamo dimenticare che Maria Santissima, oltre che essere quello che è, è anche, questo è un argomento della mia tesi dottorale, tra l'altro in teologia, il prototipo della Chiesa, cioè, che significa? Significa che tutto ciò che la Chiesa è e fa, e deve anche essere e fare, è in Maria da prima perfettamente contenuto e significato, quindi ciò che in tutto quanto il corpo collettivo di Cristo, che è la Chiesa con tutti quanti suoi membra, tutto ciò che essa è, fa ed è chiamata ad essere, in Maria si è compiuto prima a livello personale e in maniera perfettissima, d'accordo? Quindi la Madonna è descritta nella Lumen Gentium come tipo, cioè prototipo in questo senso, e modello della Chiesa, cioè tutto ciò che la Chiesa è, lei lo è in grado perfetto, tutto ciò che la Chiesa deve essere e deve fare, lei l'ha fatto in maniera perfettissima e insuperabile. Questo sia chiaro per avere bene le coordinate, questa è la dottrina cattolica della Chiesa, della dottrina cattolica, della Chiesa cattolica su Maria Santissima. Ecco, non sono rivelazioni private, Lumen Gentium, capitolo ottavo. Allora, torniamo adesso ai nostri brani e andiamo a vedere in ordine, a partire dal primo, la profezia della Vergine Madre dell'Emmanuele. Preferisco leggere prima il passaggio biblico di riferimento, mano a mano che ci accostiamo a questi testi, in modo tale che sappiamo di cosa si sta parlando. Soltanto un istante proprio estemporaneo che trovo il testo, eccolo, Isaia 7,14 dice queste testuali parole. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno, ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. E ora ascoltiamo la chiosa negli scritti di Maria Valtorta. Per chi ha il testo in versione digitale, il testo del Roschini, siamo a pagina 114. Mentre Gesù si trovava a Nazareth, in casa di sua madre, in un sabato durante il terzo anno della sua vita pubblica, fece un accenno aperto alla morte imminente. Maria d'Alfeo, cognata della Madonna, nell'udire ciò si meraviglia, si spaventa. Maria d'Alfeo è cognata della Madonna, era la moglie del fratello di San Giuseppe che si chiamava Alfeo e madre di quelli che nel Vangelo sono chiamati fratelli del Signore ma che, come si capisce bene da questo testo, sono i cugini, perché appunto figli del fratello di San Giuseppe, tra l'altro cugini oggi diremmo acquisiti perché San Giuseppe era il padre adottivo di Gesù, non il padre naturale di Gesù, quindi non sono cugini di sangue, di Gesù perché la Madonna era figlia unica. I figli di Maria d'Alfeo sono quelli nominati nel Vangelo, sono Giuda e Giacomo, che erano due dei dodici apostoli, Giuda Taddeo ovviamente non, e poi Simone e Ioses o Giuseppe, a seconda delle versioni. Erano i quattro figli del fratello di San Giuseppe, cioè di Alfeo, così chiariamo anche questo dubbio che è uno dei cavalli di battaglia dei testimoni di Geova per andare a scianciare in giro, a bestemmiare contro la virginità della Madonna. Allora, leggiamo il testo, Gesù grida, Gesù grida a Maria d'Alfeo sorgendo in piedi spaventata, guardandosi intorno come se temesse di vedere sorgere i dei cidi da dietro le serpie e i tronchi dell'orto. Gesù, ripete guardandolo con pena, quindi Gesù aveva parlato della sua morte imminente, e che non conosci forse più le scritture, tanto ti stupisci di questo che ti dico, le chiede Gesù, ma non è possibile, non lo devi permettere, tua madre è salvatrice come me, essa guardala e imitala. Attenzione a quello che dice Gesù in questo passaggio. Salvatrice come me, qui Gesù sta spezzando una buona lancia a favore della dottrina di Maria Santissima come corredentrice, attenzione, essa, la Madonna ha sempre saputo di chi era madre, quindi nessuno vada in giro cianciando sciocchezze, stupidaggini, che la Madonna non sapeva nulla o cose di questo genere. Non è vero questo qui, e oltre che non essere vero, questo diminuisce enormemente la figura, la statura della Madonna, nonché i suoi meriti. Adesso lo capiremo perché no. Proseguo la lettura. Maria è infatti austera, regale nel suo pallore che è profondo e immobile, le mani in grembo strette come in preghiera, il capo alto con lo sguardo fisso nel vuoto. Proviamo a guardarla, a immaginare la nostra regina, la divina Maria in questo aspetto, austera, regale nel suo pallore che è profondo, immobile, le mani in grembo strette come in preghiera, il capo alto con lo sguardo fisso nel vuoto. No, speriamo, guardate, che quando andremo in paradiso sicuramente il Signore ci farà contemplare questa scena, perché questa sarebbe proprio da vedere nella sua dolorosa ma anche maestosa e divina bellezza. Maria d'Alfeo la guarda, poi si rivolge di nuovo a Gesù. Qui, guardate un attimo, insomma, queste povere creature che non sapevano quello che facevano e quello che dicevano, sentite adesso che dice questa umanamente comprensibile parente del Signore. Ma non lo devi dire lo stesso questo orrendo futuro, tu infliggi una spada nel suo cuore. E Gesù risponde, è 32 anni che vi è questa spada. Ecco i meriti infiniti di Maria Santissima. ha sempre saputo. E infatti la parente risponde, no, non è possibile, Maria, sempre così serena, Maria. Chiedilo a lei se non credi a ciò che dico. Sì che lo chiedo. È vero, Maria? Tu sai? E Maria, con voce bianca ma ferma, dice. È vero. Egli aveva 40 giorni e mi fu detto da un santo. Ma anche prima, oh, quando l'angelo mi disse che rimanendo la Vergine avrei concepito un figlio che per il suo concepimento divino figlio di Dio sarebbe stato detto, è tale e realmente. Quando questo mi fu detto e che nel seno di Elisabetta sterile era formato un frutto per miracolo dell'Eterno, non ho stentato a ricordare le parole di Isaia. Ecco la Vergine concepirà un figlio che sarà detto l'Emmanuele. Ma tutto, tutto Isaia. È là dove parla del precursore, è là dove parla dell'uomo dei dolori, rosso, rosso di sangue, irriconoscibile, un lebroso per i nostri peccati. La spada è in cuore da allora e tutto ha servito a conficcarla di più. È il cantico degli angeli, è le parole di Simeone, la venuta dei re d'Orienti. È tutto, è tutto. Allora questo testo che abbiamo, la Madonna l'ha comprese, nell'istante stesso appunto dell'annuncezione, come capiamo è anche un'attestazione dell'eroismo straordinario di questa divina creatura. Capite perché? Fin da quando l'ha concepito c'è quel bellissimo canto, no? Si chiama Madre io vorrei, penso che in molti lo conosciamo, no? E quel bambino che non aspettavi non era per te, no? Cioè è impressionante, è proprio il mistero, che poi è un mistero che ieri abbiamo celebrato tutti quanti i santi, no? È un mistero che si ripercuote nella vita di tutti i santi. Grandissime grazie e grandissimi dolori. Qui in questa vita vanno a braccetto. Se non vuoi dolori non ti aspettare grazie e se arrivano i dolori aspettati le grazie. Ma se ti arrivano le grazie, rispetta dei dolori. 32 anni con la spada infissa nel cuore. Quindi 32 anni con la coscienza che quando vedeva Gesù, quando godeva di Gesù, nessuno può immaginare come abbiano vissuto insieme Gesù e Maria, no? Speriamo anche questo che quando andremo dall'altra parte, nostro Signore ci farà conoscere qualcosa, non certamente per andarci a fare gli affari di Gesù e di Maria, insomma, no? Questo non è assolutamente il nostro intento, ma si tratta veramente di cose assolutamente di cielo, no? Perché nessuno ha amato, adorato e trattato Gesù come deve essere trattato, come l'ha fatto lei. E non c'è creatura che sia stato oggetto dell'amore di Dio e manifestato attraverso la Maria Santissima di Gesù quanto Maria Santissima. Per cui, come dire, conoscere i dettagli di qualcosa di questo loro irripetibile, unico rapporto, sarebbe indubbiamente un godimento sommo, insomma, ecco, perché si vedrebbero delle cose, ecco, che su cui, parafrasando alcuni passi della Sagra Scrittura, certamente gli angeli desiderano posare lo sguardo, no? E da Maria Santissima impariamo anche quella dignità, diciamo, no? Maria austera, le mani in grembo stentoria, no? Quindi immobile, lo sguardo fisso nel vuoto. Cioè, non immaginiamoci la Madonna che è stata tante volte, insomma, come una donnetta, ecco, così, che soltanto prega, che sta un po' impaurita, devota, cioè, era umidissima, era silenziosissima, era riservatissima, ma quella donna era un portento di potenza, insomma, era una leonissa assolutamente regale, insomma, quindi con una forza e con una capacità, insomma, di offrire e di soffrire veramente infiniti. E anche su questo è un grandissimo esempio per noi, ecco, noi, il fine di queste catechesi, come di ogni catechesi mariana, è di aumentare l'amore e la devozione alla Madonna. Non stiamo qui semplicemente a, come dire, a fare più conferenze e più accademia, no? Ma aumentare l'amore e la devozione alla Madonna significa aumentare certamente la nostra santità, purché, ecco, sia sempre chiaro che, come disse Gesù nel Vangelo, se mi amate, osservate i miei comandamenti. Quindi la Madonna è così umile che non dà comandamenti, lei dà solo esultazioni e inviti. Ecco, però, anche se non dà comandamenti, ha dato tanti buoni esempi. E appunto la vera devozione consiste nell'imitazione, quindi l'amante di Maria e il devoto di Maria accoglie le sue indicazioni date sempre in termini soft. Desidero, vi invito, questo è, chi conosce l'apparizione di Maria e sa che questo è lo stile. Raramente la Madonna usa il termine voglio, qualche volta sì, ma preferisce i termini un pochino più soft, però certamente, ecco, i suoi esempi sono, come dire, eloquenti, quanto mai. Quindi il nostro rapporto con la croce, con la tribolazione, con la prova, deve essere certamente modellato su come ella ha affrontato il suo terribile, austerissimo destino di madre del redentore e di corredentrice, d'accordo? Questo era un fare proprio i dolori del figlio e metterci anche i propri. Quindi, veramente, insomma, tantissima roba. Adesso passiamo alla profezia di Isaia sulla radice di Iesse. Questa volta c'è Isaia 11, anche questo è un passo abbastanza celebre, letto in alcune solenni liturgie della chiesa. Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Ecco. Iesse, per chi non lo sapesse, era il padre di Davide. Noi dobbiamo sapere che Gesù apparteneva alla tribù di Davide, cioè alla tribù di Giuda, non solo dalla parte del padre putativo che era San Giuseppe, ma anche dalla parte della madre, perché anche Maria Santissima aveva sangue regale. Maria Santissima apparteneva alla tribù di Giuda. Ecco. Quando i nostri fratelli ebrei accoglieranno e si convertiranno al cristianesimo, tanto questo presto o tardi accadrà. Beatissimi, insomma, coloro che verranno, che parterranno a questa, diciamo così, immaginate che festa che sarà quel giorno per la Chiesa, quando riaccoglieremo, sono già adesso chiaramente i nostri fratelli, evidentemente, no? Ma i nostri fratelli che non condividono con noi, purtroppo, la gioia più bella. Io ci penso sempre, insomma, sono felicissimo di essere italiano, no? Ma supponiamo che gli ebrei si convertiranno tutti tra 300 anni al cristianesimo. Immaginate un ebreo che nasce, tutti quanti già cristiani, da 350 anni e sappiamo che gli ebrei ortodossi ancora sanno benissimo di chi sono discendenti, quindi a quale dei figli di Giacobbe appartiene la loro stirpe. Immaginate uno, insomma, che si sarà convertito, che appartiene alla tribù di Giuda, che potrà dire, cioè, a modesti a parte, nostro Signore Gesù Cristo e la Sua Santissima Madre e pure San Giuseppe fanno parte della mia stessa tribù. Insomma, no? Quindi sarà, se posso permettermi, insomma, questa, ecco, ci sarà un po' una santa invidia. Ecco. Certo, fino a quando questi nostri fratellini ancora restano fedeli all'antica alleanza e non ancora, ecco, aperti, immaginiamo, no? Quanto, come dire, che sentimenti, come dire, di santa sofferenza, no? Di santa sofferenza, ecco. Pensare come questi nostri fratelli abbiano l'onore immenso. Gesù e Maria non sono italiani, eh? Hanno beneficiato l'Italia, certamente, di tantissime cose belle. C'è la sede di Pietro, ci hanno portato, ci hanno portato la casetta dove il verbo è stato concepito, c'è la scala santa a Roma e tante altre cose, insomma, no? Il santa croce in Gerusalemme. L'Italia è stata, come dire, ricolmata di beni da parte di nostro Signore ed è abbastanza ingrata anche nei confronti della fede. Ma Gesù e Maria non sono italiani, sono ebrei, quindi io mi sono sempre chiesto, insomma, dico, come fa, diciamo, un discepolo di Gesù ad assumere certe posizioni. Però, vabbè, questo sto facendo digressioni un pochino, un pochino, un pochino personali. Nel senso che io personalmente, quando penso agli ebrei, li penso, come destinatari dell'antica alleanza, ma anche se loro non li conoscono adesso, insomma, cioè, come la stirpe che ha avuto l'onore più grande in assoluto da parte del Signore, insomma, capito, perché c'ha avuto, cioè, dare Natalia alla Madonna e al nostro Signore Gesù Cristo, insomma, cioè, insomma, è un onore non indifferente. Va bene, chiudiamo questa digressione. Allora, riguardo questa profezia, si legge questo. Questa profezia non fa altro che svolgere e completare la precedente profezia intorno alla Vergine Madre dell'Emmanuele, in modo da costituire con essa una sola cosa. Quella verga procedente dalla radice di Iesse, il padre di Davide, Isai o Iesse a seconda delle traduzioni, non è altro che Maria. Quel virgulto è Maria e il germoglio che esce da quel virgulto è Gesù. Non è altro che Maria dalla quale è sbocciato il fiore, Gesù, sul quale si è posato lo Spirito del Signore con i suoi doni. Ed è Maria perché, appunto, Maria appartiene alla tribù di Davide. D'accordo? Era fondamentale, attenzione, che appartenesse anche San Giuseppe alla tribù di Davide perché infatti San Matteo collega Gesù alla tribù di Davide attraverso San Giuseppe, non attraverso Maria. Ma perché se non fosse appartenuto San Giuseppe, che era comunque il padre reputativo di Gesù, ma tutti pensavano che fosse il padre reale, in occasione del censimento non sarebbero andati a Betlemme. Perché Betlemme era il luogo dovevano andarsi e dovevano andarsi a censire i membri della tribù di Giuda. Ma la tribù di appartenenza del figlio, da un punto di vista legale, perché c'era la legge anche allora, così come oggi, fino a quando non cambieranno le leggi, io prendo il cognome di mio padre. D'accordo? Ecco. L'appartenenza alla tribù era data dal padre, non dalla madre. Per cui se anche San Giuseppe per assurdo non fosse appartenuto alla tribù di Giuda, non sarebbero andati a Betlemme e non si sarebbe adempiuta la profezia di Isaia, secondo la quale il Messia doveva nascere a Betlemme. Quindi dico queste cose perché possiamo gettare un pochino degli sguardi sulle perfezioni assolute con cui Dio dispone e attua i suoi disegni e le sue opere. A noi, a Dio, non dobbiamo insegnarci niente. Ogni tanto dici ma hai scoperto l'America? Dico sì, ho scoperto l'America ma questo non sempre è così tanto scontato, perché molte volte noi ci mettiamo a fare da maestri dal Signore che sembra che lui non capisce niente, che deve fare tutto quello che dobbiamo dire noi, tutto quello che pensiamo noi. Dio le cose le capisce molto bene, le sa fare molto bene e specialmente le cose che attengono ai suoi disegni le progetta e le segue in maniera perfettissima. Nostro Signore nell'opera della Valtorta ha ravvisato Maria in cui il germoglio spuntato dalla radice di I.S. ed ha ravvisato se stesso nel fiore sbocciato ad ontario e germoglio. Egli ricorda infatti ad uno scriba, passaggio dell'Evangelo, un germoglio spunterà dalla radice di I.S., un fiore verrà da questa radice e su di lui si riposerà lo Spirito del Signore. Questa donna, mia madre, scriba per amore del tuo sapere, per onore del tuo sapere ricorda e comprendi le parole del libro. Con la L maiuscola. Il libro per i P.I. ebrei era la Sagra Scrittura. Terza profezia, la profezia di Geremia sulla donna che chiuderà in sé l'uomo. Geremia 31, 21, 22. Ecco, questo come vi accennavo è un passo, mentre questi sono abbastanza famosi, il primo più del secondo, ma Geremia 31, 21, 22 non sempre è, come dire, ben conosciuto dalla maggioranza dei difederi, perché è un passo scuro. Perché nel 22 si leggono queste testuali, però comincia da già dal 21, dice Pianta dei cippi, metti i pali indicatori, sta bene attenta alla strada, alla via che hai percorso. Ritorna, Vergine d'Israele, ritorna alle tue città. Ed ecco il 22. Fino a quando andrai vagando, figlia di belle, poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra, la donna cingerà l'uomo. Nelle profezie, così come in tanti passi della Sagra Scrittura, figlioli miei cari, ci sono tantissimi passi oscuri. Noi comuni mortali, guardate che con la Sagra Scrittura si sono cimentati, adesso ci sono i super esperti, i superbiblisti, i superesegeti, eccetera, eccetera, ma con la Sagra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, si sono cimentati fin dai tempi antichi, i fior di cervelli illuminati dallo Spirito Santo, insomma, i padri della Chiesa, i dottori della Chiesa, i teologi, e ne hanno scritte tante e hanno lasciato grandi doni anche alla Chiesa, hanno lasciato chiavi interpretative, chiavi di letture, ma dobbiamo tenere presente che la maggioranza dei passi anche della scrittura, non ci ha capito niente nessuno, e attenzione però, che ci importa? No, ci importa, ci importa, perché il nostro Signore quelle cose le ha rivelate, le ha fatte scrivere, e noi con la nostra testolina umana pensiamo, ma che le ha fatte scrivere a fa se tanto ci capisce niente nessuno? L'esempio più grosso, più emblematico di questo, più eclatante, è il libro dell'Apocalisse, in quanta gente ci si è messa proprio a, cioè d'accordo, lo stile con cui è scritto poi tra l'altro è, come dire, simbolico, allegorico, apocalittico, lì ci si può mettere dentro qualunque cosa, insomma, ci si sono scervellati, ma gente veramente con degli attributi non indifferenti, di un calibro straordinario. Attenzione, a fronte di questa cosa che tu dici, ma insomma, ma che vada a leggere a fa tutte quelle cose, tutti quei segni, tutti quei cose, degli angeli che sono le trombe, poi cinque cose, poi sette segni, poi questo e poi quell'altro, tanto ci capisco niente, ma attenzione che alla termine dell'Apocalisse ci stanno le minacce, dice guai a chi si azzarda a togliere una virgola o aggiungere una virgola a tutto quello che c'è scritto in questo libro profetico perché i castigli che sono lì descritti li cadranno addosso. Mamma mia! Allora, perché dico queste cose? Ecco, perché è importante che noi manteniamo dinanzi all'Altissimo, cheppure è tanto buono e pieno di amore nei nostri confronti, sempre quel senso di sacra riverenza, nel senso che noi non capiamo quasi niente di quello che Dio fa. Questo vale per tutti, vale anche per il Papa, vale anche per i cardinali, per i vescovi, per i sacerdoti, cioè c'è quell'umiltà di fondo che bisogna sempre mantenere, cioè che certamente noi abbiamo la fede divina e cattolica che non si tocca, ma le certezze granitiche sono poche, perché per il resto stiamo tutti quanti in cammino cercando di discernere, cercando di capire, cercando di renderci conto di quello che Dio fa, di come si esprime, di come opera. Molte volte non è che è così facile rispondere. Io ho tanta paura oggi di chi ha la risposta pronta a tutto, capite in che senso paura? Perché Dio non ha la risposta sempre pronta a tutti, anzi delle volte sembra quasi che voglia metterci un pochino in crisi. E perché? A mio avviso, per farci crescere in questa sana umiltà. Ma adesso io vorrei capire chi è che si mette dinanzi a un testo come questo, faccio una cosa nuova, una donna, la donna cingerà l'uomo. Cioè se non ce lo dicesse il nostro Signore Gesù Cristo, d'accordo? Che questo era ciò che è accaduto alla Madonna nei confronti di nostro Signore. Ma chi ci può arrivare? Ma pensiamo a un Pio ebreo, insomma, questo è il libro del profeta Geremia, no? Ma anche prima che venisse il nostro Signore a Geremia, ha vissuto molti secoli prima di Gesù. Si fa a leggere quella cosa, ma come fa a arrivarci? Mettiamo che la legga nel IV secolo a.C. Come? Cioè, non è possibile, d'accordo? Ma anche dopo che è successo, cioè, sto perzetto che compare, no? Così, a palo, fino a quando andrà vagando perché il Signore crea una cosa nuova, la donna cingerà l'uomo. Gli eseggeti moderni, contemporanei, che fanno tutti quanti i loro studi, rigorosi, adesso non voglio minimizzarli per carità, sono belli, sono utili, sono opportuni, eccetera, eccetera. Ma sempre entro certi limiti, d'accordo? Perché dentro il rigore, dentro i metodi storico-critici, tutti quelli che te pare, i generi letterali, non ce la metti la Sacra Scrittura, perché poi Dio a un certo punto parte per la tangente e fa quello che gli pare. Ci sono certe profezie, pum, messe lì, in versetto, che poi c'è un'interpretazione, diciamo così, che è acclarata dalla tradizione della Chiesa, è evidente che quella è un'interpretazione autentica, ma è difficilmente sostenibile da un punto di vista di argomentazioni scientifico-razionali. Allora, il commento, Gesù durante il terzo anno della sua vita pubblica, dopo aver fatto in Nazareth, alla presenza di una quarantina di persone amiche, il più alto elogio della sua Santissima Madre, svelando così i segreti del re, tra virgolette, giustificò questo suo elogio. L'ho fatto perché sia compreso il detto di un profeta, una donna, con la D maiuscola, chiuderà in sé l'uomo. L'uomo con la U maiuscola. Allora, cioè, per chiudere dentro di sé il verbo di Dio, cioè Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, questo è il senso di... Chi è questa donna? Punto interrogativo. È una qualunque? Abbiamo visto nelle puntate precedenti, no? Cioè, allora, noi abbiamo Dio crea Adamo e lo fa lui. La donna viene tratta dalla costola di Adamo, quindi la donna dall'uomo. Poi, tutti i membri della razza umana, da un uomo e da una donna, e che cosa ci mancava? Ci mancava che un uomo uscisse da una donna. E questo però successe in Maria. Una donna chiuderà in sé l'uomo. Quindi, con le opere di Dio è sempre così. Noi abbiamo, come dire, dei flash, no? Dei momenti in cui il Signore ci fa vedere qualcosa e poi, io ricordo Monsignor Fisichella, quando faceva le sue splendide lezioni di teologia sacramentale, dice una cosa veramente molto bella, una di quelle cose che rimane impresse, no? Dice perché la sacra scrittura si chiama rivelazione. Attenzione, ri vuol dire ripetere, no? Quindi, rivelazione vuol dire mettere il velo di nuovo, cioè rivelare. Cioè, che cosa significa? Significa che alcune cose c'erano un velo. Che cosa è la rivelazione? Dio lo alza un attimo e poi lo riabbassa. Quindi, alza il velo e poi lo rivela. Ricopre un'altra volta. Quindi tu c'è uno squarcio, un attimo, di luce. Mamma che bello, però poi ritorna il velo e, dopo che hai visto quel flash, torna una certa oscurità. È così. Guardate, è così anche la nostra vita personale di fede, eh? Questa è la legge della fede. La legge della fede, San Giovanni della Croce dice che la fede è una conoscenza oscura, una conoscenza ma oscura. Cioè, per noi conoscenza oscura sono quasi contraddizioni in termini, perché se io una cosa la conosco non è più oscura. Se è oscura, non la conosco. Ma nelle medità di fede, tu c'hai una conoscenza reale, ma la conoscenza è oscura. Perché non è tutto chiaro e limpido come il sole a mezzogiorno. Non lo è. Non lo è. Perché come diceva Sant'Agostino, si comprehendis non est Deus. Deus. Cioè, se lo comprendi, comprendi vuol dire prendere con, cioè capisci tutto. Cioè, se tu capisci tutta una cosa, tu che sei un essere umano, tu puoi capire tutto di una cosa, se quella cosa è alla tua portata. Ma per essere alla tua portata deve essere più piccola di te. Ma siccome Dio è più grande di noi, non lo possiamo comprendere. Capite? Possiamo cogliere qualcosa, intuire qualcosa, vedere qualcosa, percepire qualcosa, ma non comprendere. Bene. Fatta questa digressione, quanto tempo ci abbiamo? Va bene, apriamo il capitolo della sposa del Cantico dei Cantici. Leggo. San Giuseppe, poco prima del rito annuziale, dopo averla rassicurata e condivideva in pieno il suo voto di verginità, bellissimo anche questo passaggio, le rivolge queste parole. Ai tuoi piedi metto il mio tesoro, in perpetuo, la mia castità assoluta, per essere degno di starti accanto, vergine di Dio, sorella mia sposa, giardino chiuso, fonte sigillata. Come dice l'Avo Nostro, che forse scrisse il Cantico vedendo te. Grande San Giuseppe, grandissimo San Giuseppe. San Giuseppe c'era già arrivato, che il Cantico è stato scritto anzi tutto per lei, è il canto d'amore di Gesù per Maria e di Maria per Gesù, anche se qualcuno si scandalizza di questo. Io sarò il guardiano di questo giardino d'aromi, guardate San Giuseppe che spettacolo, in cui sono le più preziose frutta e da cui sgorgo una polla d'acqua viva con impeto suave, la tua dolcezza. O sposa che col tuo candore mi hai conquiso lo spirito, o tutta bella. bella più di un'aurora, sole che splendi poche ti splende il cuore, o tutt'amore per il tuo Dio e per il mondo che vuoi dare il Salvatore col tuo sacrificio di donna. Vieni mia amata, e la prende delicatamente per mano guidandola verso la porta. Li seguono tutti gli altri e fuori si uniscono le compagne festanti e tutti in bianco e con i veni. Bellissimo qui San Giuseppe. Ci siamo adesso un attimo, ecco, beati della santità di San Giuseppe. San Giuseppe sappiamo, no? Io a suo tempo avevo un sacco di cicli di catechesi per Radio San Giuseppe, un ciclo di catechesi che si chiamava il più santo dei santi, perché tra gli esseri umani noi siamo certissimi che San Giuseppe sicuramente supera in statura tutti i santi umani. Perché per stare a fianco alla Madonna e per essere il padre apputativo del verbo di Dio. Su questo non c'è nessunissimo dubbio. Ora, graziosa salto un commento, diciamo così, del Cardinal Bea, che è un po' teologico. Andiamo a graziosa l'applicazione che l'Apostolo Giovanni fa di un testo del Cantico dei Cantici a Maria. Applica a Maria, adesso lo leggiamo, il testo del Cantico 2.10.14, incorniciata in un ambiente floreale idilliaco. Siamo durante il terzo anno della vita pubblica del Maestro. Gesù con gli Apostoli si trova nella città santa. Ora, prima di andare a vedere lo scritto, leggiamo il brano della scrittura. Cantico 2.10.14 dice queste parole qui. Ora parla il mio diletto e dice, alzati amica mia, mia bella e vieni, perché ecco l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si può sentire nella nostra campagna. Il figo ha messo fuori i primi frutti e le viti fiorite spandono fragranza. Alzati amica mia, mia bella e vieni, o mia colomba che sta a fare le venditure della roccia, le nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce perché la tua voce è soale, il tuo viso è leggiano. Ed ora ci leggiamo questo bel commento vivo, ecco, dal testo di Maria Valtorta. Un sole di primavera che scherza con le fronde novelle, con le ramaglie fiorite, suscita fiori, fiori da ogni parte. La pianura è tutta un tappeto fiorito. I giardini di Giovanni adicusa, dice Simone Lozelote, devono essere tutti in fiore. Anche l'orto di Nazareth deve parere un cesto di fiori. Maria ne è la dolce ape che va da roseto a roseto e da questi e gelsomini che presto fioriranno, ai gigli che già hanno i bocci sullo stelo e coglierà il ramo del mandorlo come sempre fa. Anzi, ora coglierà quello del pero del melograno per metterlo nell'anfora della sua stanzetta. Quando eravamo bambini le chiedevamo ogni anno perché tiene sempre lì un ramo di albero in fiore, non ci metti invece le prime rose? E lei rispondeva perché su quei petali io vedo scritto un ordine che mi venne da Dio e sento l'odore puro dell'aura celeste. Guardate il cuore delicatissimo e bellissimo della Madonna. Allusione evidente al ramo fiorito che prescelse Giuseppe come sposo. Te lo ricordi Giuda? Chiede Giacomo dal feo al fratello. Attenzione, piccola parentesi. Quando il sacerdote del tempio disse a Maria che doveva andare in sposa, vennero a sapere che era di sangue regale, quindi che apparteneva alla tribù di Giude. Avevano capito che era una vergine di un certo calibro, anche se lei era umilissima, e in più aveva sangue regale. Ma chi la diamo in sposa? Essendo morti i suoi genitori. Lasciamo che sia il Signore a scegliere. Quindi chiamano un po' di giovanotti, tutti quanti della tribù di Davide, e consegnano a loro un ramoscello secco di mandorlo. Chiediamo al Signore un segno. A coloro di essi che fiorirà il mandorlo, a quello a cui fiorirà il mandorlo, vuol dire che il Signore dai sposa Maria. Ed è fiorito il mandorlo di San Giuseppe. Questa chiaramente uno ci può credere o ci può non credere. Questo non c'è niente a che fare insomma con la nostra fede divina e cattolica. Io personalmente ci credo. E immaginare la Madonna che in forza di questo, guardate proprio anche il cuore, sono bellissime queste cose qui. Per ricordarsi di questo qui tiene sempre dentro caso una manforetta con questo ramoscello fiorito che a lei ricorda l'ordine dell'Altissimo, perché lei vide. Cioè lei era certissima, capito? Cioè il sacerdote chiede questo segno, fiorisce il fiore di San Giuseppe, il ramoscello di San Giuseppe. San Giuseppe è il mio sposo, quindi lei già non aveva dubbi che fosse la volontà di Dio perché lei era ordinato il sacerdote, ma con questa cosa capite che è rimasta proprio alla grande, no? Ecco. Sì, me lo ricordo, risponde Giuda D'Alfeo, e ricordo che divenuto uomo io attendevo con ansia la primavera per vedere Maria camminare per il suo orto sotto le nuvole dei suoi alberi in fiore e fra le siepi delle prime rose. Non vedevo mai spettacolo più bello di quella eterna fanciulla trasvolante fra i fiori fra voli di Colombi. Eh figlioni miei cari, qui un pochino di santa invidia per Giuda e Giacomo che stavano sempre dentro la casa della Madonna perché erano appunto i figli del fratello di San Giuseppe e si vedevano questi spettacoli, un pochino viene, però c'è sempre la speranza che questo bel film in 4k sia conservato nella mente dell'Altissimo e poi ce lo faccia vedere quando stiamo nell'altro mondo in 4k, parivolosamente. Anzi 4k pure 3d se possibile. Oh andiamoci presto a vederla signore che veda anche io tutto questo supplica Tommaso l'innamorato di Maria. Sapevate che San Tommaso, quello che ci credeva poco, amava tanto la Madonna. Non c'era solo San Giovanni, era veramente l'innamorato di Maria. Un titolo mariano insomma che le anime devote alla Madonna ci aspirano un pochino a questo. Ogni riferimento e allusione a persone realmente esistenti è puramente voluto. Va bene andiamo avanti. Gesù accondiscende al desiderio di Tommaso. L'inverno dice è finito. Sì continua Giovanni. Ecco qua San Giovanni l'altro super innamorato della Madonna che dice noi andiamo a dire alla colomba con la C maiuscola. Alzati, affrettati, oh mia diletta e vieni perché l'inverno è passato. Passato la pioggia è finita, i fiori sono sulla terra. Cita il brano che abbiamo letto. Sorgi oh mia amica e vieni colomba che stai nascosta, mostrami il tuo viso e fammi sentire la tua voce. E bravo Giovanni, dice Pietro, sembri un innamorato che canti la sua canzone e la sua bella. E San Giovanni risponde, ecco, lo sono. Di Maria lo sono. Non vedrò altre donne che sveglino il mio amore. Solo Maria l'amata da tutto me stesso. Io se mi posso permettere insomma una piccola sottoscrizione a livello di santi desideri, insomma, chiusa parentesi. Lo dicevo anche io un mese fa. Vero signore, dice Tommaso, ma io credo che siamo tutti innamorati di lei, dice Matteo. E questo, se mi si consente, insomma, dato che qui stiamo parlando dei dodici, ecco, speriamo che tutti quanti i nostri vescovi e tutti i sacerdoti ascoltando queste cose le facciano proprio e le mettano in pratica. Perché per un vescovo per un sacerdote è un punto d'onore, è un vanto essere innamorato di Maria. Io credo che siamo tutti innamorati di lei. Dice Matteo, apostolo ed evangelista, del più lungo e più dottrinale tra i Vangeli. Un amore così alto, così celestiale, quale solo quella donna può ispirarla. E l'anima ama completamente la sua anima. La mente ama e ammira il suo intelletto. L'occhio mira e si bea nella sua grazia, pura che dà diletto, sentite che espressione, senza dare fremito. Così come quando si guarda un fiore. Maria, la bellezza della terra, B maiuscola e T maiuscola, e credo la bellezza del cielo, dice Matteo. Qui a San Matteo, apostolo, d'accordo, bisogna prendere e fargli un monumento perché dopo il Vangelo, per carità, con questa frase, con questo periodo che ha detto, ha sparato proprio un exploit spettacolare, senza commento, si può soltanto che rileggere. Credo che siamo tutti innamorati di lei, un amore così alto, così celestiale, quale solo quella donna può ispirarlo. E l'anima la ama completamente, ama completamente la sua anima. La mente ama e mira il suo intelletto, l'occhio mira e si bea nella sua grazia pura che dà diletto senza dare fremito. Così come quando si guarda un fiore. Maria, la bellezza della terra e, credo, la bellezza del cielo, dice Matteo. È vero, è vero, sentenzia Pietro. Tutti vediamo in Maria quanto è di più dolce nella donna, e la fanciulla pura è la madre dolcissima, e non si sa se la si ama più per l'una o l'altra grazia. Dice Filippo, la si ama perché è Maria. Ecco, dice Pietro. Sentenzia Pietro. E Gesù chi osa? Gesù li ha ascoltati parlare e dice avete detto tutti bene. Benissimo ha detto Simon Pietro. Maria si ama perché è Maria. E questo è il nostro Signore. Maria si ama perché è Maria. L'unica, irripetibile. bene, facciamo a chiudere sì. Nella visita fatta non molto tempo dopo da Gesù con i suoi alla Santissima Madre in Nazareth, Giuda d'Alfeo sorridendo chiede a Maria, hai colto anche oggi il tuo ramo per la tua anfora? Spettacolo, eh? Senza dubbio Giuda, gli risponde Maria, e quando siete venuti lo contemplavo. E risognavi mamma il tuo mistero lontano, dice Gesù abbracciandola e attirandosela contro il cuore. Come si fa a leggere queste cose? Io speriamo che... Maria alza il viso, imporporato e sospira sì, figlio mio, e risognavo il primo palpito del tuo cuore in me. Io non so se sono io, insomma, a essere particolarmente sensibile, ma, insomma, quando si leggono queste cose non si può rimanere indifferenti, a mio avviso, insomma, no? Ste scene veramente di amori celesti, assolutamente celesti, insomma, no? Anche durante un'altra visita fatta da Gesù con alcuni suoi apostoli a Nazareth, venivano applicati alla Vergine vari passi del Cantico dei Cantici. E qui cominciamo a sentire il fuorileggio, eh? Qui gli apostoli, guardate come gli apostoli fanno a gara a esaltare la Madonna. Speriamo che tutti quanti i nostri cari e santi vescovi, amati vescovi, facciano altrettanto, senza avere paura, insomma, eh? Di amare la Madonna perché la ameremo e la esalteremo sempre al di sotto, di quanto merita di essere amata e esaltata. Sentite, allora qui cominciamo, eh? Il suo orto chiuso, orto sconclusus, esclama Giuda d'Alfeo. Sì, e lei ne è la rosa, dice Tommaso. Il giglio fra le spine, dice Giacomo. La fonte sigillata, dice lo zelote. Meglio, la polla d'acqua viva che sgorgando con impeto dal monte bello dà l'acqua di vita alla terra e zampilla con la sua purezza profumata verso il cielo, dice Gesù. Ma guardate che questo è uno spettacolo unico al mondo, cioè gli apostoli che cominciano a fare a gara, a esaltare Maria e Gesù non solo che approva, ma poi ci mette la chiosa, d'accordo, e è lui a chiudere con l'esaltazione più bella. Pensiamo, cioè tutte queste cose qua, pensiamo a quello che dicono alcuni che, poverini, non sanno quello che dicono, diciamo se esalti troppo la Madonna oscuri la figura di nostro Signore Gesù Cristo. Ma, insomma, quanto si vede qui, non mi sembra proprio, insomma, eh? Quindi, va bene. O meglio, non va bene, però andiamo avanti. Ed aggiunge Gesù che ella è per lui come sorella e sposa. Gesù vede Maria come sposa, eh? E guai a chi si scandalizza di questo. Facendo poi, dice ma come è la madre? è la madre biologica. Ma la Madonna è anzitutto la sposa di Gesù, perché il rapporto tra Dio e l'anima è anzitutto concepito da Dio in termini sponsali, in senso stretto. Questo è per tutti, d'accordo? Figuriamoci tra Dio e la creatura più bella che lui abbia creato e che se ne è creata per lui. L'amore sponsale con tutto quanto la sua carica, diciamo, di amore ardente che questo comporta, eh? Non libidinoso. Ecco, non pensiamo alla sponsalità purtroppo come vissuta adesso tra di noi mortali dopo il peccato originale, ma pensiamo alla sponsalità in quanto sponsalità come pensiero di Dio, quindi come forma del tutto peculiare e splendida di amore. Ecco, facendo poi esplicitamente appello al cantico, dice che ella è la vigna del Signore, che il Pacifico affidò ai vignaioli e che volle dare i suoi frutti e che non volle dare i suoi frutti altro che al Signore. Giunti poi alla porta di casa, Giuradalfeo commenta mentre Gesù bussa all'uscio chiuso. Sarebbe il caso di dire, aprimi sorella mia sposa, diletta, colomba immacolata. Infine, applica inoltre alla Vergine Madre l'immagine della colomba nella fessura della rupe, nonché l'immagine del giglio delle convalli. Gli apostoli avevano chiesto a Gesù perché tra i fiori egli preferiva il giglio delle convalli, il mughetto. Chiudiamo con questa altra chicca. Ecco che rispondo, per la sua umiltà, il giglio delle convalli, il mughetto, quella bellissima pianta profumatissima tra l'altro. Tutto parla in esso di umiltà, i luoghi che ama, l'attitudine del fiore, mi fa pensare alla madre mia. Questo fiore è così piccino, eppure sentite come odora un solo stelo. Io li avevo nella mia casa a Natale, insomma, questi mughetti, e va sicuro insomma che in primavera non si sentiva profumo di tutto il giardino soltanto che di questi. Questo fiore è così piccino, eppure sentite come odora un solo stelo. L'aria intorno se ne profuma. Anche mia madre, umile, schiva, ignota, che chiedeva solo di rimanere ignota. Pure il suo profumo di santità fu tanto forte che mi aspirò dal cielo. Io ho sempre avuto questa immagine di Maria, che l'ha proprio aspirato nostro Signore. Cioè l'ha dolcemente, violentemente aspirato. Come se gli avesse fatto perdere la testa nostro Signore, in senso amoroso. Io ho questa immagine. Ci vedi un simbolo di tua madre in quel fiore? Chiede Tommaso. Sì, Tommaso. E pensi che i nostri antichi, rodando il giugno della convalle, presentissero lei? Chiede Giacomo d'Alfeo. Allora l'hanno anche paragonata ad altre piante e fiori, alla rosa, all'ulivo, e ai più gentili animali, torto, recolombe. Dice quasi con ira l'iscariota. L'iscariota purtroppo non era molto devoto della Madonna. E nemmeno la Madonna riuscì a ridurlo a miti e sani consigli, né durante la vita pubblica, né dopo il tragico evento del tradimento. Ognuno le diceva ciò che egli vedeva di più bello nel creato, risponde Gesù. Ed è creato, ella realmente è la tutta bella. Ma io la chiamerei Giglio della convalle e Pacifico Ulivo, se dovessi celebrare dei suoi nodi. Quindi sappiamo che i titoli che Gesù preferisce dare a sua madre sono Giglio delle Convalli, il Giglio, e Pacifico Ulivo. Dobbiamo chiedere al Papa se le aggiungere le litanie lauretane, perché queste due non ci sono, le litanie lauretane. Però, ecco, sono certamente titoli che assai bene descrivono qualcosa di ciò che la Madonna ha, specialmente queste considerazioni che Gesù ha fatto. Gesù si rasserena e illumina, pensando a sua madre, e si dilunga per isolarsi. Vedete che anche Gesù ogni tanto desiderava pensare un po' a lei. Ecco, possa essere il suo pensiero in noi anche in questo giorno, oggi è il primo sabato del mese, buon primo sabato del mese a tutti, e noi ci vedremo, se Dio vuole, ci sentiremo regolarmente il prossimo venerdì alle 21.30 per una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Buona festa e buon primo sabato a tutti, la mia benedizione, Ave Maria. Grazie. Grazie.